buongiorno a tutti in questa attività impareremo a correggere delle voci su wikipedia in wikipedia molte voci prendiamo delle voci a caso hanno dei template di avviso che segnalano ai vari utenti che lavorano su wikipedia che una certa voce ha bisogno di un certo tipo di intervento in questo caso per esempio questo template segnala che questa voce sulla andalusia è soltanto una bozzo e quindi avrebbe bisogno di integrazioni uno dei template di avviso il template correggere che segnala che la voce ha dei problemi di forma ad esempio degli errori ortografici degli errori sintattici o comunque scritta in una forma migliorabile tutte le voci che hanno il template correggere si trovano nella categoria correggere e poi sono suddivise per argomento andiamo a prenderne una creano nelle voci da correggere di argomento letteratura e andiamo nel paese di odds come vedete ci sono diversi template di avviso uno di questi è questo il secondo template correggere ed è su questo problema che andremo intervenire ora per correggere il testo noi dobbiamo aprire la pagina in modalità modifica andare a correggere possiamo aggiungere un collegamento alla voce mondo immaginario in questo modo io creo wikilink che presenta mondo immaginario come in pagina a cui punta il wikilink e regno immaginario come testo che viene visualizzato del wikilink continuo come vedete ci sono molti troppi paragrafi in questa voce che tutto sommato è piuttosto breve cerchiamo di compattare il testo e renderlo più leggibile più comprensibile e quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anche altri progetti vediamo che è vuoto, quindi togliamo il paragrafo. E come ultima cosa possiamo togliere l'avviso correggere perché abbiamo corretto la voce. Gli altri avvisi invece rimangono perché non ci siamo ancora occupati né delle fonti né della formattazione. Ora inseriamo l'oggetto della modifica che è pubblichiamo le modifiche. Abbiamo visto come si corregge una voce su Wikipedia.